Nelle ultime ore l'account ufficiale di Pokémon Unite ha postato su Weebu, un sito di microblogging cinese, di aver finalmente terminato l'ultima fase beta del gioco. In più ci viene detto che delle sorprese arriveranno molto presto e di stare attenti ai loro social network. Questo ovviamente può significare soltanto una cosa, Pokémon Unite sta per uscire e manca veramente poco. La nostra ipotesi è che possa essere rilasciato il 27 febbraio per il Pokémon Day del 2021. Queste sono tutte le notizie che sappiamo finora, ma unendo questi piccoli pezzi di puzzle tra leak, rumor, immagini ufficiali rilasciate, possiamo già avere un quadro generale di quello che sarà Pokémon Unite. Noi ovviamente lo porteremo sia su YouTube che su Twitch, quindi vi consigliamo anche di seguire i nostri social che trovate in descrizione per non perdervi nessun video al riguardo. E voi ragazzi cosa ne pensate? Siete in trepidante attesa per Pokémon Unite? Fatecelo sapere qua sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a condividerlo con tutti i vostri amici, a iscrivervi se ancora non lo avete già fatto e ad attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Oh e non dimenticatevi di passare dai social che trovate in descrizione. Per questo video è tutto, vi ringrazio per essere passati. Ciao allenatori!